Nell'andata dei quarti di Europa League, la Roma batte 1 a 0 il Milan, indirizza il discorso di qualificazione con una vittoria in vista del ritorno. L'Atalanta batte 3 a 0 il Liverpool in Conference League, la Fiorentina pareggia 0 a 0 contro il Victoria Pulsen. A San Siro il Milan stecca e la Roma ipoteca parte del punteggio in vista del ritorno in programma il 18 aprile all'Olimpico. Finisce 1 a 0 per i giallorossi che nel primo tempo sono bravi a sorprendere i rossoneri. A Danfield è impresa dell'Atalanta che cala il 3 a Liverpool e ipoteca la qualificazione alle finali. Nella sfida di andata dei quarti di finale in Conference League la Fiorentina pareggia 0 a 0 con il Victoria Pulsen. L'unica grande occasione del match capita all'attaccante dei padroni di casa che al 23esimo riceve la sponda di un compagno in area di rigore e manda in pochissimo al lato un destro a incrociare.